Sì, un altro weekend veramente da non perdersi qui al Centro Storico della città di Fano con tutte le attività che abbiamo annunciato nei giorni scorsi che prenderanno vita, quindi presepe di sabbia, pista del ghiaccio e soprattutto la via di Cigliesi dei Bambini che esploderà con una serie di laboratori per tutti i bambini a partire già dal primo pomeriggio, ma qui in piazza 20 settembre è un momento molto particolare grazie alla collaborazione con una scuola tra le note di Bellocchi, un coro che si è ormai espresso veramente in tantissime attività tra l'altro anche di tipo internazionale, ma che farà proprio il suo concerto qui sotto l'albero, quindi circa 200 bambini, due cori diretti dal maestro Caselli e con diciamo tante altre particolarità che vorrà trattare delle canzoni natalizie ma non solo e quindi anche un momento molto bello, un momento da non perdere che si terrà verso le ore 17.30 circa proprio qui in piazza 20 settembre. In città esploderanno, si accenderanno tutta una serie di alberi, tanti quartieri che animano la città, le tante associazioni accenderanno il loro Natale proprio domenica 8, quindi un'altra domenica da non perdersi qui nella città di Farno.